Allora mi chiamo Michel, sono in Italia da 19 anni, sono arrivato nel 2001 con la mia sorella gemella grazie al ricongiugimento familiare per uno zio che sta in Toscana essendo sacerdote non potevamo stare con lui in canonica in quanto prete e grazie al cielo conosceva questa famiglia a Bologna che aveva fatto negli anni degli affidi ci prese per provare a vedere questa esperienza, aumentare questa esperienza di affidamento è arrivata la maggiore età perché si è arrivati che eravamo minorenne a 13 anni l'affidamento finisce proprio quando compi 18 anni quindi loro hanno deciso di continuare a tenerci nella famiglia sino dove dobbiamo cercare un'altra destinazione perché l'affidamento finiva alla maggiore età parte di affidamento e quando è finita mi sono messo a fare la cittadinanza italiana a fare la domanda per sentirmi parte di uno stato dove vivo ormai quasi da 20 anni quindi avere anche una mia identità, non essere il solito straniero che quando ti guardano dico ah guarda questo chissà da dove viene e ho iniziato a fare la domanda ugualmente anch'io con la mia sorella e dopo lunghi anni quindi dal 2014 siamo nel 2020 e finalmente ho quella carta che mi identifica mi fa sentire parte della comunità italiana e quindi oggi giorno 30 maggio ho dovuto festeggiare questo grande evento questo grande avvenimento di questa cosiddetta carta costituzionale italiana io ho dovuto seguire le orme del mio nonno che faceva l'agricoltore mi sono iscritto alla scuola agraria e mia sorella ha fatto la scuola di cucina e quindi dopo cinque anni mi sono diplomato ho fatto vari stage varie esperienze nelle aziende agricole nelle in quelle vivaistiche ho acquisito abbastanza esperienza per poter immettermi nel mondo un po' professionale e poi ho aperto la paradita IVA e ho cominciato a lavorare come autonomo piano piano mi sono specializzato ho iniziato prima con l'impresa di pulizia poi ho integrato la parte di giardinaggio piano 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 sono cresciuto dal punto di vista lavorativo partendo con un condominio sono arrivato a 5 10 eccetera e oggi posso diciamo essere contento di anche di avere quella soddisfazione di assumere qualcuno piano piano piano